I televisori Panasonic della serie AS650 sono Smart TV dotate di pannello LED IPS Full HD e tecnologia 3D. Il design è elegantissimo e finemente progettato, lo chassis è impreziosito da un piedistallo dalle forme minimal che donerà un tocco di raffinatezza al vostro soggiorno. Il retro del TV è come al solito dedicato alle porte di comunicazione, ingressi ed uscite sono numerosi e consentono di interfacciare facilmente e in modo intuitivo il dispositivo con apparati esterni. Panasonic AS650 è dotato di un pannello Full HD Direct LED IPS, capace di regalarvi una qualità di immagine eccellente con una luminosità uniforme. La ricchezza dei dettagli è esaltata dalle tecnologie implementate. Il dispositivo infatti integra un potente processore Dual Core Plus che permette di ottenere massima qualità di immagine. A tutto questo si aggiungono la retroilluminazione Black Light Scanning Intelligent Frame Creation Pro a 1200 Hz e la tecnologia Brilliant Contrast. La tecnologia 3D ovviamente è precisissima e vi regalerà un'esperienza di intrattenimento come al cinema. Questo grazie alla performance del pannello ma anche al fantastico sistema audio con Dolby e DTS per coinvolgervi fino all'ultimo secondo durante la visione dei film. Davvero tante sono le funzionalità rese disponibili da Panasonic per questa serie di TV. Le tecnologie Wi-Fi e DLNA integrate vi permetteranno di navigare nel web e di accedere ad un numero sempre crescente di app internet. L'innovativa interfaccia MyStream attribuisce un significato completamente nuovo all'utilizzo di un televisore. Tramite la app Panasonic TV Remote 2 e il nuovo tasto MyButton posto sul telecomando touchpad del televisore potrete creare un vostro profilo esclusivo impostando i contenuti che preferite. L'interfaccia MyStream illustrerà inoltre contenuti registrati, vostre riprese video, foto di famiglia, pagine web e video in rete. La funzione di riconoscimento vocale Voice Assistant disponibile sul telecomando touchpad e sull'app Panasonic TV Remote 2 è in grado di identificare quale membro della famiglia stia utilizzando il televisore e richiamare automaticamente il suo profilo.